buonasera benvenuti a qui pro loco un format un nuovo format che intende valorizzare le piccole realtà locali eccetera ora in questo momento mi trovo a l'alloro l'alloro è un piccolo vidente paese in provincia di Stapolico e che è noto e famoso per diversi motivi c'è la sua famosa sagra di San Colibri dove tutti i ragazzi e le ragazze festeggiano con la famosa corsa dei sacchi divertendosi tanto 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 dopo di che abbiamo la gastronomia per esempio i suoi famosi spartalpaccini la famosa pasta di l'alloro e poi che cosa abbiamo abbiamo il bar di l'alloro ecco tutto questo per invitarvi a visitare questo divertente e ridente paese in provincia di Stapolico ah e chi è che se rompia i denti sul bordo per marciapiedre mentre Zompa d'entra in sacco? chiedilo all'oro e chi è che se mangia quella pasta che guardate per tutto e cambia solamente il nome che è fatta d'acqua e farina? chiedilo all'oro e chi è che non sa che cazzo fa se va a piano a birra nel tavolino dei formi che poi se va a drogare da un'altra parte dopo più tardi? chiedilo all'oro chiedilo all'oro buonasera dall'alloro